e io posso fare delle foto anche no? puoi fare quello che vuoi puoi fare esattamente quello che vuoi allora mettiamo il rullo adesso qua sotto e pensiamo alla fiorentina alla sua squadra del cuore ok? sei pronto? che ti sembra questo rullo? ti piace? ecco qua bello rullo che si muove e adesso io utilizzo questa campana grande per fare un lavoretto sui piedi sui piedi ok? qua ci mettiamo un pochettino di buona energia che bella cosa come ti senti? bella bellissima cosa allora muoviamo un po' il rullo dietro di te e sentiamo come va perfetto giù con la testa giù con la testa rilassa 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 non ti preoccupare che adesso si sta rilassando perché ho messo il rullo dietro la schiena senti che mi fa la grattatina e poi sto usando quello che esattamente ti serve cioè il massaggio alle gambe perché lui sappiamo che le gambe devono riaumentare la circolazione e quindi ci serve ecco olla la fantastico adesso facciamo anche Sara che si è completamente rilassata la stessa cosa ecco non certo come va bene guarda che bel sorriso che c'ha fantastico il sorriso di questo giovane ragazzo ecco qua eccolo